I, entrata, uscita, o, entrata, uscita, taglia, i, o, san, taglia. Il Dio è morto perché noi dobbiamo tornare alla vera divinità che siamo noi in relazione con l'unica vera madre che ha la terra. Il senso del morso Luca, il senso del morso, addirittura della testata e dell'entrata, poi porta via e colpisce. Proprio il senso del morso e poi del portavia colpisce. Mentre difendo c'è già questo. Mentre mi difendo c'è già quello. All'alentatore. Mentre mi difendo. C'è già quello. Così. Come se tu non ci fossi. Come se tu avessi morto. Poi fanno il tuo passo. Perché ti serve. Ti serve per buttarti avanti. Ti serve. Ora quando torni indietro porta via la gamba. Esatto. Guarda che mi piace. Il viso, il viso. Il viso è importantissimo. Perché di solito anche la lotta fa uno, due, tre. Invece guarda cosa fa. Uno è subito lì. Eh sì. Oltre. 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 Poi da qui. Oltre. 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 Oltre.